Ma le differenze sono profonde, sono profonde sia su quella che è l'identità dei due partiti tra fronte nazionale francese e Lega Nord, sia quello che è il panorama politico di Francia e Italia. Per quanto riguarda le differenze tra Lega e fronte nazionale, sono prima di tutto dal punto di vista storico e ideologico. Il fronte nazionale è un partito nazionalista a vocazione fortemente centralista, la Lega è un partito autonomista e federalista che nasce per trasformare uno stato centralista come l'Italia in uno stato federale. Quindi è evidente che già i punti di partenza sono diversi. Su cosa si trova la convergenza però in questo momento? Si trova su quanto ha detto la Le Pen ieri sera, cioè sul fatto che oggi la divisione destra e sinistra è una divisione che è assolutamente superata, ma siamo in un contesto nuovo in cui c'è una contrapposizione in Europa tra partiti sovranistri, partiti che vorrebbero una politica nazionale che tornasse in qualche modo a regolamentare la vita dei cittadini e tornasse ad avere un potere rispetto alle logiche europee che poi sono le logiche della grande finanza e chi invece ritiene che il modello da seguire sia il modello di continuare a delegare potere all'Unione Europea e di continuare in qualche modo a perdere sovranità nazionale.